Eccoci professore, siamo sempre con lei. Mi è venuta in mente una cosa però riflettendo, però questi ospedali, queste strutture intermedie possono avere una vocazione relativamente al discorso degli anziani che ovviamente sono persone più fragili e a volte o una volta dimessi hanno bisogno di un'assistenza, ma in realtà dovrebbero essere strutture aperte a tutta la cittadinanza, quindi a prescindere dall'età o non è così? Sono strutture diverse. No, no, potrebbero essere aperte anche agli altri, ma di fatto il bisogno è quello del… dicevo prima, l'anziano si resta fermo in letto per otto giorni è come un giovane che restasse per molti mesi e quindi capisce che il problema del passaggio del posto ospedale è molto… e anche per il passaggio dalla casa all'ospedale, che è una delle funzioni dell'ospedale di comunità, che per evitare il ricovero in un ospedale di vero, insomma, potrebbe essere aperto a tutti, ma di fatto chi se ne giova di più è l'anziano fragile. Quindi è importante che sia lui, che la tipologia dell'assistenza sia imposta proprio sulle sue esigenze, sulle sue condizioni fisiche, sulle sue condizioni psicologiche, sul suo bisogno di essere accudito. E capisce che anche su questo aspetto, lei diceva prima che purtroppo il personale non è molto eccetera, però in un ambiente piccolo, più attento, più tra virgolette umano, è molto più facile realizzare un'assistenza agli anziani perché dopo qualche giorno ci si conosce tutti, il personale conosce gli ospiti, il turnover è molto limitato. Chiaro, c'è un messaggio, ieri avevo visto un servizio di un'anziana con 1000 euro al mese di pensione a cui detrarre il costo dell'abadante e poi una bolletta di 600 euro per gas e energia. Ditemi che cosa può fare? E' più lei, dottoressa, dovrebbe rispondere a questa domanda. Io purtroppo posso solo sentirmi assolutamente vicino a queste persone. Per le bollette mi pare che ci sia stato un tentativo da parte dell'autorità governativa di ridurne il peso. Ma il problema della povertà è sempre uno degli anziani poveri e soli sono un grandissimo problema che non può risolvere la medicina, anche se la medicina deve tenere presente di questa realtà. Il problema della povertà, leggevo durante l'intervallo, davo una sbirciata a un articolo comparso su un giornale in cui si dice che in Italia ci sono anche molti lavoratori poveri, lavoratori che non ci fanno. E quindi anche per loro poi tutto il problema dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza sanitaria, del ricorso a strutture private diventa un problema gravissimo. E io personalmente lo vivo con angoscia perché pensare che dei miei concittadini non possano curarsi in maniera adeguata soltanto perché non hanno i soldi sufficienti mette in crisi anche il mio essere medico. No, assolutamente. Ecco, a questo punto si allaccia un po' a quello di cui voleva parlare prima. Cercare di fare molta prevenzione per cercare di invecchiare nei limiti del possibile, il meglio possibile, quindi il classico invecchiamento attivo, e poi arrivare a un'età nel tempo e più in là possibile, però nelle migliori condizioni per poter far fronte a tutte queste evenienze. Perché ovviamente è un dato di fatto questo, a parte chi ha tanta disponibilità e quindi potrà superire in qualsiasi modo possibile, non avrà nessun tipo di problema, è solo la scelta di cosa voler fare, però tutto questo discorso viene fatto per chi invece versa in situazioni critiche. Quindi, la prevenzione. Prego, quindi la prevenzione. Ecco, la prevenzione è una parola di cui ci siamo riempiti la bocca anche per tanti anni, abbiamo mai messo nulla in concreto poi. La prevenzione si basa, a mio giudizio, su due pilastri. Le scelte individuali e l'attività clinica, funzionamento dell'attività clinica. Le scelte individuali sono attività fisica soprattutto e rispetto di un certo tipo di alimentazione, un'attivazione psicologica sempre molto presente e poi, legato al secondo punto, il rispetto delle logiche imposte dalla medicina. Noi sappiamo, per esempio, che il rispetto della terapia antipertensiva spesso non è così completo come si dovrebbe. Spieghi meglio cosa vuol dire. Cioè, il medico, il cardiologo, il medico di medicina generale prescrive dei farmaci antipertensivi che poi la persona non rispetta oppure dopo tre mesi si stufa oppure dice, pensa che facciamo un po' di sosta, vediamo. Non abbiamo avuto un'educazione complessiva alla prevenzione come sarebbe, anche cominciando alle scuole. Sarebbe utilissimo parlare ai ragazzi e ai ragazzi del liceo, guardate che fare questo, fare attività fisica, ma non alla vostra età, 17 anni, sono capaci tutti, ma anche quando ne avrete 50, ricordatevi che è molto importante per invecchiare bene, parlare del rispetto delle regole mediche, parlare dell'attivazione psichica, guardate che chiudere la vostra vita davanti a un televisore non è il modo migliore per invecchiare bene e così via, bisogna avere la forza di una forte campagna preventiva, ma finora siamo sempre stati travolti dalle esigenze terapeutiche, immaginarci adesso nel tempo... Sì, questa è l'attenzione. Buongiorno Elena, è esatto, la prevenzione resta la soluzione migliore, ma in ogni caso, presto o tardi, la malattia che ti porterà all'aldilà arriverà inesorabilmente e devi sperare che duri poco. E qui anche... Va bene, va bene dottoressa Elena, penso che siamo d'accordo con la nostra... Siamo d'accordo, è ovvio, inesorabilmente purtroppo è dato di fatto. E mi pare che anche questo, questo invocare una malattia breve, di star bene fino... Ci sono stati degli studi molto interessanti qualche anno fa sulla compression... Si chiamava compression of morbidity, compressione della morbidità per cui era augurabile che la vita continuasse così bene e poi si morisse in poco tempo rapidamente. Si è visto che questo non è realizzabile, anzi, oggi i vantaggi della medicina tendono a dire si vive sempre più a lungo, però accompagnati da malattie. Il sogno del nostro lettore, lettrice, non so chi fosse, è un sogno che non si realizza. A meno che a un certo momento uno dice basta, non mi curo più, io accetto di finire qui. Perché sennò i vantaggi della medicina ci portano a prolungare la vita. E ci sono degli esempi, visto che comunque lei si interrelaziona spesso con colleghi in ambito internazionale, in occasione anche di convegni, di studi, in altri paesi del mondo, se non d'Europa, dove virtuosamente si è proceduto in un certo modo con certi protocolli che hanno funzionato, sempre per quanto riguarda o le strutture intermedie o questi ospedali di comunità, che dir si voglia, o anche nell'RSA, c'è qualche esempio virtuoso, qualche realtà? No. Ahia. Se lei va a guardare in giro i problemi degli Stati Uniti, hanno problemi molto simili ai nostri. Se lei guarda i lavori scientifici prodotti durante la pandemia negli Stati Uniti o in altri paesi europei, i problemi erano sempre gli stessi. La scarsa preparazione, la scarsa preveggenza, la scarsa disponibilità nelle fasi iniziali di strumenti di protezione, lo stress degli operatori, le difficoltà di affrontare i problemi di riduzione del personale dovuto proprio alla malattia, tutti sostanzialmente gli stessi problemi che riguardano l'RSA, riguardano il post-acuzzi, riguardano tutti questi ambienti di cure prolungate, uguali, identici negli Stati Uniti. Io non penso ad un modello che andrei a copiare, per esempio, nelle nostre RSA. Qualcosa qua e là ci sono dei suggerimenti che certamente potrebbero essere adottati, ma non vedo il modello. Chiaro. Ecco lei, appunto si accennava al discorso dell'RSA, perché a volte dall'ospedale e dalla struttura intermedia può essere la via poi di accesso se la persona non si riprende in autonomia o comunque non dà segni di ripresa di una vita dignitosa per la struttura sanitaria, l'RSA, la casa di riposo sostanzialmente, no? No, non ho capito la domanda. No, dicevo che a volte questi ospedali di intermedie, queste strutture intermedie, ospedali di comunità possono essere quella struttura che poi ti porta anche alla casa di riposo, non necessariamente al proprio domicilio. Sì, purtroppo è vero così, però queste strutture intermedie dovrebbero avere come loro funzione quella di rallentare il più possibile, non dovrebbero essere dei parcheggi. Tant'è vero che in molte situazioni la gestione di queste strutture si oppone al dire siccome ci occorrono 40 giorni di lista d'attesa per entrare nella casa, nell'RSA XY, tu resti qua. Infatti è questo che voleva arrivare, rischiamo che siano dei parcheggi. È un atto di umanità, è un atto di protezione della famiglia, però non ha niente a che fare con la funzione istituzionale di un ospedale di comunità. Le figure professionali che sarebbero richieste sono comunque abbastanza e anche molto qualificate. Un attimo solo che leggo un messaggio. A chi posso chiedere informazioni su questi ospedali di comunità? Alla propria ASA, al proprio distretto. Però devono ancora essere attuati in molti casi, perché i finanziamenti sono in previsione con il... Per esempio, nello studio che abbiamo fatto come sezione italiana... Aspetti che l'abbiamo un attimo persa come collegamento. Andiamo a dire prestigionare il collegamento che sia un attimo interrotto. No, ne stavo parlando appunto di... Ecco, prego, la rivedo. Parli pure. Ah, ecco, dicevo che per rispondere alla domanda quali sono gli ospedali di comunità, dicevo che nel documento dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria noi abbiamo seguito il modello dell'ospedale di comunità di Tregnago in provincia di Verona, che funziona da molti anni e ha prodotto risultati particolarmente significativi in questi anni sul rapporto tra... in particolare sul rapporto tra persone che tornano a casa e persone che finiscono in RSA. Cioè, se questo rapporto è molto a favore delle persone che tornano a casa, vuol dire che questi ospedali hanno la loro funzione. Che risultati sono stati conseguiti? Appunto. Buoni. Molto buoni. Che la gran parte delle persone sono tornate a casa. Però le puntocite a questo ospedale di... questa struttura di Tregnago, Verona, per le persone che sono residenti, quindi non lo so, il medico di base, anziché il medico ospedaliero, indirizza verso questa struttura intermedia perché la persona fa parte di quell'USL, è stata ricoverata quindi da un certo ITER. Simili strutture non sono ancora capillarmente presenti ovunque. Abbiamo una situazione a macchia di lopardo, per quel che riguarda il Veneto almeno. Io la situazione Veneto la conosco poco, ma anche in altre regioni purtroppo c'è stato un impegno poco impegnativo, anche perché spesso non troviamo poi le persone da metterci a lavorare. È quello che teniamo discorso di prima. Contano i muri, ma contano le persone. Anche perché se prendiamo... Adesso faccio un discorso che potrebbe essere interpretato un po' negativamente. Ma se prendiamo sempre i operatori che non hanno trovato posto, mi lasci, scusi, in altri luoghi, non costruiamo... Questi dovrebbero essere posti avanguardi, a posto dove vanno i più bravi. I più bravi medici, i più bravi infermieri, i più bravi ossi. Non quelli che non trovano posto da nessun'altra parte. Questo è particolarmente delicato e mi sento di riaffermare questo concetto. Curare i vecchi è difficile, è molto complicato. Curare i vecchi malati è difficilissimo. Occorrono operatori bravi, capaci, generosi. Assolutamente. Guardi, professore, mi sarebbe piacere ritrovarci, perché ci sono diversi capitoli che dovremmo affrontare sempre riguardo alla quarta età. Abbiamo intanto delineato come dovrebbe essere, quali sono le criticità del potenziamento di questa offerta assistenziale territoriale con gli ospedali di comunità, di cui voi avete fatto un'analisi, un progetto identificato pro e contro. Le altre problematiche che dovremmo affrontare e che ci hanno segnalato sono i disturbi cognitivi, la depressione nella persona anziana e la valutazione neuropsicologica dell'anziano. Chi la può fare, come deve essere fatta, quali sono le prospettive, anche per un'assistenza domestica. Quindi come preparare i cosiddetti parenti, caregiver, insomma, ad affrontare le patologie della persona molto anziana e anche il geriatra, che ruolo viene ad avere, perché si ricorre poco al geriatra ancora, effettivamente. Devo rispondere adesso a tutte queste domande? No, no, non abbiamo più tempo, purtroppo. Saranno prossime puntate, per quello. Le ho anticipate i temi, le ho anticipate i nostri telespettatori, i temi delle prossime puntate. Io la ringrazio tantissimo, siamo giunti al termine. Le auguro buon lavoro, naturalmente, grazie. E ringrazio i telespettatori di averci seguito, poi la puntata la potete, naturalmente, ritrovare nel nostro sito internet. Professore, grazie ancora, alla prossima e voi telespettatori a domani. Grazie. 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 Grazie.